la montagna reale questo è il titolo di questo convegno ecco allora la domanda che le faccio è quanto è importante parlare di montagna perché è importante che ci siano appuntamenti eventi come come questo e quali possono essere gli obiettivi cioè si concluderà con soddisfazione questo convegno secondo lei se si arriverà a quale conclusione no è sicuramente già solo partendo dal dal titolo la montagna reale cioè questo deve essere un primo progetto un primo intervento poi spero che ne seguiranno altri l'obiettivo di fondo deve essere quello di passare dalle parole ai fatti perché da decenni si parla sempre di montagna però io ritengo che siamo ancora nella fase della filosofia qui bisogna passare alla dalle parole ai fatti io da quando ero bambino sento parlare professori universitari che dicono che la valle mayra è un laboratorio però dopo ormai ahimè io già 60 anni dopo decenni e decenni credo che bisogna passare da questa fase di laboratorio a questioni concrete ecco a proposito della valle mayra lei la vive insomma in prima persona quindi vedi i problemi che riguardano la montagna oggi quali pensa che che possono essere le soluzioni quali sono le soluzioni le interventi che chiedete voi ma no io vivo la valle mayra sia come cittadino di ronero quindi di fondo valle e come mi definisco osservatore facendo il giornalista c'è un paradosso c'è bisogna avere il coraggio di dirlo che nelle valli e ormai è da decenda dal dopoguerra che si parla di problemi che non sono mai stati risolti dallo spopolamento alla mancanza dei trasporti però il paradosso è che mai come adesso la montagna ha così tanti soldi basti pensare i 20 milioni che sono stati destinati a l'armo